Cominciamo? Ciao, io sono Giovanna Droguello e do l'ASIMIS RBI Ho scelto il Compass perché due anni fa ho fatto l'ASIMIS qua, sei mesi Mi è piaciuto molto, mi sono piaciuti i professori e le materie Perciò ho deciso di tornare e di iscrivermi qua Vorrei fare responsabile per le relazioni pubbliche Vorrei occuparmi per la pubblicità e per il marketing È stata una bella esperienza, un'esperienza che non cambierei per niente Ho imparato di vivere, ho imparato di vivere da sola Ho imparato tantissime cose, ho imparato italiano Meglio rispetto a quello che parlavo prima Ho imparato di studiare un'altra lingua che era una fatica enorme per me all'inizio Infatti il primo esame che avevo dato era la comunicazione politica di professor Grandi Ho preso un 28 che era una cosa bellissima Infatti adesso mi sono emozionata perché era una cosa La differenza più grande che ho notato io sono i professori Io non dico che i professori in Serbia non sono bravi Però la disponibilità dei professori italiani, dei professori di Compass è una cosa che è stata molto sorprendente per me Una cosa che non mi aspettavo Poi mi è piaciuto come è organizzata l'università Tu qui puoi scegliere tutte le materie che puoi seguire In Serbia no, in Serbia ci sono le materie che tu devi seguire E due o tre materie che puoi scegliere Invece qua puoi scegliere tante cose Il sito è organizzato benissimo, è aggiornato E poi c'è la nostra tutor che sempre risponde Sempre, subito Compass definirei come un luogo dove nasce una comunicazione buona Da dove escono i comunicatori bravi Grazie 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 a tutti.